Konnichiwa cari Giappolavers e benvenuti a voi qui nel mio canale Insomma è sempre Giappogamer e benvenuti quest'oggi qui su Metaslag 3 Mamma mia ragazzi, questo videogames è veramente spettacolare Insomma che sto amando veramente tanto, come spero lo amiate anche voi Allora siamo giunti esattamente all'episodio numero 2 Allora prima di andarci a gustare questo nuovo episodio Vi chiedo gentilmente di iscrivervi al canale, di attivare la campanella Allora adesso si, che possiamo andare a vedere cosa succede quest'oggi In questo nuovo appuntamento di Metaslag 3 Ok, missione 2 Mamma mia ragazzi, mamma mia tanta roba Questo Metaslag Iniziamo a sparare come ci fosse un domani Ci sono gli zombie, e vabbè Puttana la miseria però No cazzarola No c'è, oddio ha ridotto lo zombie, oddio Oddio, oddio Oddio, oddio, lotta fra zombie, oddio Ok, fatto fuori Dai beccati qui Eh no, dai però, ma non ci devi vomitare addosso Ma cazzarola Le schioppa va Le schioppa le duti No cazzarola Questi vomitano Ma diventato zombie Ok Vai tutto Che devi fare Ma che è in campo a profughi questo? No Io non vorrei andare sopra Ma non si può andare giù? Oddio, oddio, oddio Oddio, è arrivato, oddio Vabbè, fammo così Vabbè, diamo una bella Infuocata Bella impepata Vai Dovevo passare Da sopra sinceramente No, è da Ma non vomitate Che caspita Oddio, oddio, oddio Che poi è lentissimo, cavolo Le schioppate Bruciate No, dai però Dai però Che poi è lentissimo, ma Cioè, si muove veramente lento, cavolo Quando si trasforma Beh, ovviamente, obiettivamente Non zombie Però ragazzi Ovviamente è spettacolare Continuiamo, ovviamente Dai, prendi questo Va Oh, che caspita Cento Vai cara Fatto fuori Dai cazzo, roba Mi hanno ritrasformato Ma che caspita è? Che poi si muove lentissimo Cazzarola Sì, hai voglia spingere qua Eh, sì Vabbè Ciao Abbruciate, va Un po' di pollo E non vomitate Cazzarola Non vomitate Vai così, vai così Fanno tutti fuori a questi Non butta niente E cazzarola Poi ci mettete pure voi E ci avete paura, eh Vai con le monete Vai pure sopra E arrivano pure i zombie Qua è no Dai Però Ma che caspita Vai, prendi questo Va così E la peppa però Non so Vomita sangue Non so che caspita sia Eh, tra un po' crepa Vai, beccati questo Così E dai però Pure gli elicotteri Cazzo Mamma mia Che inferno Oh, e stioppate Va Eh, vabbè Vai così Ci sono Sti elicotteri Alla Rambo Proprio Da guerra del Vietnam E prendi questo qua Così E dai però Cazzarola E crepa Oh Eh, che caspita Vai, lancia fiamme Contro lancia fiamme Andiamo per di qua Vai, bruciano Toccate gli e fuoco Vi do fuoco Ok, di qua Oh Vai, che ho trovato Oh Vai, vai di bonus Eh, grazie Che me dai? Eh, che me davi Più che altro Ok Eh, cavo Ce l'ho ieri Porca la miseria Vai ragazzi No, dai Che figata Diventavo Pupazzo di neve Eh, prego No, iedi No, iedi No, dai Cazzarola Però carino Sto iedi Crepa No, dai Cazzarola Tacci tua Iedi Brutto Iedi No, cazzarola Pure Abbiamo pure saltato Pure saltato Iedi Ma che vuoi? Un'altra ancora Oddio, c'è il frigorifero Oddio, oddio Eh no, iedi Hai capito proprio male Tu, eh Crepa, va Vai così Vai con i bonus Cento Cento monete No, no, no Eh, cavo Sono diventati Pupazzi di neve Cavolo Ok Vai cara Vai cara Letto liberato E quanti siete Gli edi maledetti Bastardi Vai con cento carote Buone sei cento carote No, dai Un'altra volta Cupazzo di neve Eh sì Ma quanti siete qua però? Eh grazie Mi hai liberato Gentilissimo Eh che caspia Quella ha fatto appena Il tempo a morire Vai Vai che ci siamo liberati Cazzarola Ah grazie Mi hai liberato Ok Quelli Stanno là No Dai Ma ti prego Vai così Vai così Spaccamo tutto Mamma mia ragazzi Che bordello Sta seconda missione Vai che tu è liberato Amico Però liberaci Liberaci Oddio che è sta bambola Oddio ma che è Mi siete pure Mutantina Non mi dite Vai con bonus Cinquemila Fatto fuori Fatto fuori Fatto fuori Oddio che caspita è Come si fa a saltare Come si fa Ah vai così Così Vai Oddio si muove Oddio 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 c'è la batteria Vai vai Spariamo Vai prendete questo Maledetti zombie Ma quanti caspita siete poi Mamma mia che bordello Oh cavolo L'hanno crepato Nooo Siamo diventati zombie E dai Cazzarola Però E prendete questo qua Così Che caspita No Di nuovo zombie Dai Ma porca la miseria Vai prendete questo Venite qua Vai così Mamma mia C'ha sto rag Non so se sia un raggio No Forse un vomito di sangue Però potente Vai vai Guardate come zompa Però zompa Zompa bene Vai zompa 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 Cioè oddio Gliel'ha fatta da zombie Oddio Adesso qua siamo Allo stiamo In boschi Bella anche La colonna sonora Eh vabbè Ma che caspita Vai così Così Brucia Brucia Eh no Cazzarola Ma non Ma non crepava Ma quanto ci vuole Farlo fuori Ma vai con sto Sangue C'è roba Da ciclo potente Porca la miseria Eh cazzarola Ce l'ha rifatto fuori Ma si butta A capofilo Ah poi si butta Vai stioppate Un po' di granate Vi fanno bene No dai Non ti Si tuffano A capoccia Cavolo A pesce No No pure il dottore È diventato Zombie Ma che caspita Apparentemente Comunque Geniali Oh vai che Siamo tornati Normali Scusi Scusi dottore Però Quando ci vuole Che è Boss fight Eh Si gli alieni Qua che so Polli Polli giganti Ma che è Si mi sa che Ha boss fight Eh cazzarola Porca la Porca la miseria Che robetta Ragazzi Vai prendete questo Così Polli giganti Manco All'ammatori Vi vogliono A voi Come polli Dai cazzarola Con ste palle Infuocate Ma che Cazpia Roba è Ma non Crepate Mai Porca la Miseria Eh si In verticale E cazzarola Mi hanno preso Bastardi Ah cazzo Ah ok Mi sa che due Forse due o tre Sono crepati Bene bene Vai così Vai così Un altro Fatto fuori Ci hanno fatto fuori Anche a noi Però Ci abbiamo Le vite infinite Ringraziando Dio Che rendono La partita Ovviamente Molto più semplice Del dovuto E cazzarola Però Vai con le granate Oh Ok Fatto fuori Fatto fuori Bene così Che succede No ma che Ma che Che caspia è Su raggio Che sono sti blocchi Sembrano Blocchi della Torah Ma che Ma che è Non so Spariamo un po' A tutto Aio No Ma cazzarola Eh Thank you Thank you Però qua Crepiamo mille volte Cazzarola Porca la miseria Vai così Vai così Vai così Eh Porca la miseria Che caspita è Sta boss fight Beh vabbè Ma poi Sempre a noi Ci beccano Vai grazie Amico Grazie Eh Sì Vabbè Vai così Vai così Oh Iatta Iatta Vai così Bene così Bene così Siamo arrivati comunque a 309.000 punti Bene E allora Cari Giappolaverzi Eccoci qui Nel menu Di questo Metaslag 3 Allora anche questo Secondo episodio Episodio numero 2 Insomma Mettete un po' Come mi pare Ovviamente Termina qui Spero vi sia piaciuto Di lasciarmi Più le like Possibili Ovviamente Commentate Condividete con i vostri amici Lungo e largo Seguitemi I vari social Il bello come sempre Essere pagina facebook Twitter Instagram Canale Telegram Basta scrivete Giappogame Qui di social E mi trovate agevolmente In più Vi ricordo anche Di iscrivervi Al mio canale Ad attivare la campanella Per rimanere a tornare In mezzo alle video Ed episodi Sul gaming Giapponese A trazione esatta gradi Alle volte anche non Con uscita Poi di Diana Dei video E dei più svariati episodi E infine Vi ricordo anche Il mio blog Su WordPress Dovete Antintanto Scrivo news E risoluzioni varie Sui video Che riesco a portare A termine sul canale Quindi vi consiglio anche Di passare Per il mio blog Al link Giappogamer.com.blog E allora Cari Giappogamersi Io vi ringrazio Uno a uno Per essereati Fin qui E dal vostro Giappogamer Per il momento È tutto Matane E ai prossimi Episodi E ai prossimi E ai prossimi E ai prossimi E ai prossimi